No, Franco Paresi. Scusi, è libero? Sì, sono appena arrivato. Come lei è appena arrivato? Eh, tira giù un attimo le valigie, scusi un attimo, eh. Eh, tira giù le valigie. Uè, ciapa, we out! Che succede? No, no, non si preoccupi che ci penso io. Signora, eschi che sono 50 mila con i bagagli, pera di bar. E poi mi fa male la gamba. Ma che male la gamba, non l'ho neanche toccata. Ma bucala, che lei è peso di l'olore, veira. Guardi che le metto cattolino giallo per simulazione. Vada via, tira dai ciapavus. No, nessun problema, è la donna di Moratti, si chiama Bedi. Senta, dove devo andare, signor Baresi? Vuole che andiamo a San Siro, a Milanello. Inviaturati. Inviaturati, ma comodo subito inviaturati. Eh, viaturati, sono pratico io. Inviaturati, viaturati, viaturati. Ehi, dove credi di andare? Inviaturati e non romper i coglioni. Rita Beggia. Oh, cosa fa? Rita schifosa, approfittarsi così di un povero ragazzo come me, faccia miseria. Va e basti. E ti è finito, e ti è finito. La palla c'era si resta di immagini di almeno 4-5. Uè, mitico e unico, numero 6. Adesso ci spariamo insieme al secondo tempo. Cosa dici? Oh, che emozione, che emozione. Franco Baresi, nato travagliato a Brescia, l'8 maggio 1960. Segno zodiacale. Biscione.